Un libro che vi consiglio per i ragazzi dalla media in su, dalla prima area di primo grado in su, è questo nuovo libro di Maglio Castagna. Maglio Castagna è anche uno sceneggiatore. Questo fa sì che i suoi romanzi, e ne ha scritti diversi per ragazzi, abbiano un passo molto veloce. C'è la trilogia bestseller Petra Demone, che è un grandissimo classico, ormai già un classico per ragazzi, che inserita in qualunque biblioteca, crea veramente una serialità di lettura. Questo invece è uscito da pochissimo, non l'ho ancora letto, ma mi fido ciecamente dell'autore. Poi è un autore italiano, e quando sono bravi, perché no, anzi è viva. Perché ve lo consiglio? Racconta una, perché parla in maniera ovviamente narrativa, anzi, vi ho già detto, con un passo simile a una sceneggiatura, dal punto di vista dei ragazzini, un evento accaduto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, era il 3 marzo del 1944. Questo treno che da Napoli doveva arrivare a Potenza, in realtà non arriva perché muoiono tutti, ma non per un incidente, si vengono trovate morti all'interno di una galleria. Allora, è un evento anche misterioso, strano. Ovviamente è un modo per parlare di un evento italiano accaduto veramente in Italia, in quegli anni. È un modo per dare voce ai ragazzi, per sentire appunto, questo è molto bello innanzitutto per loro, le vicende storiche narrate dal punto di vista di ragazzini loro coetanei, e dall'altro appunto per raccontare comunque un mistero. Castagna è quella trilogia di cui vi parlavo, ma anche altri libri che ha scritto per ragazzi, ha sempre una sorta di nero, di inquietudine, di lato molto dark che esce fuori. Quindi ci racconta questo fatto stranissimo avvenuto realmente in Italia, e ci spiega come mai, chi erano queste malombre che sono state accusate della morte, di questi tantissimi passeggeri erano. Non mi dice quanti fossero, vabbè, comunque tutti i passeggeri di questo treno sono morti. Niente, vi consiglio la lettura perché può essere di sicuro super appassionante per voi, è un modo per raccontare quel periodo ai ragazzi.